è notte volta e sono sveglio come siamo a temperatura presidente sono appena 14 gradi temperatura dell'acqua prevista 21.5 poi vedremo la strumentazione di bordo così ci indica come ti senti? alla grande buongiorno a tutti ci aggiorniamo fra un pò presidente come ti senti oggi? male mangiano male buongiorno non ti potrò scordare se è più una mia arriva? mi stanno due stanno mi è beccato la seconda a me stai scendendo 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 a me non ti potrò scordare laurettale mi è beccato la mia mi è beccato la mia il polpo non si è fermato mai un momento adesso mi ha liberato piccolino si molto libero liberiamolo dove la mamma mia mi ha lasciata non ti potrò scontare se piatta mia che bella scarpetta bravo con le ciabanne colpisce colpisce ancora colpisce ancora colpisce lo senti devi cambiare in continuazione capitano dispensa consigli agli amici buongiorno se ti è in canna se fiola mia se fiola in fiore a a a a si a 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 benvenuti in basilicata è uscito il sole oggi questa domenica tante barche a mare un bel ciabattone no guadino come ho cambiato il colore bella infatti vedi che bei morsi da dieci minuti le seppie non mangiano più come ce la facciamo noi la mangiata buongiorno buongiorno a tutti 18 ottobre 2021 questa mattina seconda uscita seconda uscita finalmente un po' di tempo libero da dedicare alla nostra grande passione ieri abbiamo fatto una specie di escursione per vedere un po' come stava il mare non è andata male riproviamo stamattina siamo un po' fuori orario stiamo uscendo in data mattinata per provare il pomeriggio sempre che il mare sia clemente nel senso che non si alzi molto per poter fare uno scarroccio tale da poter pescare le nostre amiche seppie uno scarroccio che deve essere tra il mezzo nudo e 0,8 ideale almeno qui da noi e niente amici ci vediamo dopo riprendiamo questa mattina abbiamo fatto un po' di pepiotte il presidente in canna ha una bella scarpita grazie grazie bella 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 che bravo per se te diciamo soffè no e acqua e buongiorno le scarpette passerà eccola eccola lì dammi il guadino che sta appena appena attaccata l'abbiamo fatta eccola bella questa bella 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 il guadino sì 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 bello bello bella piccole scarpette ma che ci fanno i log salano vegetariano queste seppie che pace che pace come va come va di lato di lato e c'è più dietro la spugla ma che nessuno la cercata sull'arancia sull'arancia bel colore di vecchia bella scarpa bella scarpa vediamo questa montatura presidente spieghiamo un po agli amici che ci seguono se vogliamo chiamarla montatura semplicissima multifibra 0 10 0 12 un nodo semplice nylon scusate floor carbon nylon di 50 70 centimetri un gancetto da edging e la tutanare oggi abbiamo messo un piombetto che c'è un po di corrente sotto però bisogna alternare preferibile senza piombetto piombetto di 7 grammi tutto dipende sempre dalla corrente è un'altra bella seppia d'italia buona un'altra piccola seppiotta sta andando a te quella a me non va incredibile un sommergibile presidente ha appena avuto una bella mazzata una bella canna piuttosto anche potente fare si tratti di uno scarpone che necessita la fe che necessita del guadino beh beh questa è una signora sebbia qua siamo sul mezzo di chilo me lo dai anche qua cosi in più come si dice attimba attimba fotte bella bella è cotto il pollo quella seppiotta quanto ti vuoi dire mario buon giorno scusate un piccolo intervento no non neanche gli aggettivi giusti puligria in corso ci tocca un bene questa è colpa eh dice che dobbiamo mettere l'acqua poi dobbiamo fare una calata non neanche no 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 no